corrispondenti la natura è un tempio dove pilastri vivi non sono tratti in distinte parole l'uomo passa lì tra foreste di simboli che osservano con sguardi familiari come echi che a lungo e da lontano tendono a una profonda tenebrosa unità grande come le teneve o la luce i profumi colori suoni si rispondono profumi freschi come la carne di un bambino dolci come dopo e verdi come i tratti e altri di una corrotta trionfante ricchezza con tutta l'espansione delle cose infinite l'ambara e il muschio incenso e il benzoino che cantano i trasporti della mente e dei sensi